Procediamo con questo ordello, il Cavaliere si renderà estratto, rappresenterà l'incontro di Marmo e Paramello, quindi il quartiere attuale, ah, il quartiere Centro Urbano, vediamo che è questo. Daniele Chiveri da Milano, poi incontrano San Severo e San Giovanni che rappresentano gli altri, con i quartieri Cesuola, il piccone, colore bianco, il saliere, il pastiglio, la mura, la salera. Poi incontrano San Zelone, Stravaudenti che rappresenta i quartieri, la presenza in Marzo del Vescurio del Vescurio del Vescurio del Vescurio del Vescurio del Vescurio del Vescurio, il colore rosso. Dario Cattaneo e Valera, poi incontrano a strada fuori, cioè quella della cura per l'inforzione, a partire di Lorenzuola e al mare, il nero, come la proprietà, il Cavaliere. Roberto Cinquegrana da Tampoli, e l'ultimo per Porta di Cosa che rappresenta le contrari, Chiesa Nuova, Porta Abbegnana e Prova, dalla zona che poi si stende dal Vescurio del Vescurio del Vescurio del Vescurio, con il Vescurio del 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 Vescurio Grazie a tutti.